A due mesi e mezzo dalla scossa di terremoto del 9 novembre, le chiese danneggiate delle città di Peso Refano provano a ripartire. Ha cominciato in tal senso la chiesa dei Cappuccini riaprendo i battenti dalla vigilia di Natale grazie all'impegno dell'impresa Mercolini e Torelli ed ora prova a risollevarsi per Pasqua anche la millenaria Pieve di Candelara, anch'essa dichiarata inagibile in seguito alle crepe create dal sisma. Dal 9 novembre ogni funzione religiosa è stata trasferita fra l'oratorio e la chiesa di Santa Maria dell'Arzilla. Nei prossimi giorni però ha previsto il completamento di un intervento con corde d'acciaio e tiranti per garantire la sicurezza dell'edificio e avvicinarlo ad una nuova riapertura. Ora si cerca però di capire come finanziare un ripristino di struttura che richiederebbe un sostegno statale o della soprintendenza alle belle arti. Resta invece inaccessibile della secentesca chiesa di Roncosambaccio dove qui il rischio di crolli è più preoccupante e urge un radicale intervento strutturale. Per domenica i parrocchiani hanno organizzato all'esterno dell'edificio la tradizionale benedizione degli animali ma per tornare fra le navate la strada è quanto mai nebulosa.